cari amici di hd motori oggi siamo con questa stupenda cannondale adventure neo 1 il prototipo quasi perfetto di una bici da città elettrica in realtà quella di oggi non sarà la recensione di questa bici anzi l'abbiamo già fatta circa un annetto fa la recensione di questa cannondale la trovate già sul nostro sito ve la lascio anche linkata in descrizione oggi la utilizzerò proprio per raccontarvi quali sono le cose veramente importanti da andare a vedere prima di acquistare una bici elettrica per la città per evitare di buttare i soldi e per evitare di trovarli con un mezzo che funziona male ed è pericoloso vediamo le primissime cose a cui bisogna prestare attenzione riguardano la normativa non dovete acquistare una bici elettrica che comunque in vendita se ne trovano diverse che non è a norma di legge prima di tutto in italia non può superare i 250 watt di potenza e attenzione non dovete confondere la potenza con la capacità della batteria che solitamente è espressa in watt ora qua ad esempio abbiamo una batteria da 625 watt ora che non c'entrano niente però con gli 85 newton metro di coppia massima di questo motore che sono perfettamente all'interno della legge la seconda cosa importante che una bici elettrica da città o non deve essere a pedalata assistita non deve essere una bici con un motore in grado di funzionare da solo senza l'intervento sui pedali del ciclista quindi la bici deve essere un aiuto alla vostra pedalata per farvi fare meno fatica ma dovete poter azionare l'assist alla pedalata con i pedali non vanno bene le bici che hanno il manettino per accelerare posizionato sul manubrio in quel caso secondo la legge italiana avreste un mezzo equiparabile ad un ciclomotore e quindi molto probabilmente potreste andare a infrangere in un colpo solo una manciata di normative per esempio l'utilizzo di un ciclomotore senza patente senza l'assicurazione senza la targa senza indicatori di direzione magari pure senza casco insomma una multa che ve la ricordate ci vuole il casco in città per andare su una bici elettrica beh è consigliabile specialmente se fate dei tragitti in cui siete fianco a fianco alle automobili ma anche in generale per la vostra sicurezza ma non è obbligatorio dove si può circolare con una bici elettrica o a pedalata assistita fondamentalmente ovunque si possa circolare anche con una bici tradizionale di conseguenza potete andare dappertutto tranne che nelle autostrade nelle strade a grande scorrimento oppure nelle superstrade nelle tangenziali urbane la cosa importante che dovete tenere a mente è che se a fianco a voi c'è una pista ciclabile siete obbligati ad utilizzarla non potete avere la scelta arriviamo poi a parlare di un concetto fondamentale quello che riguarda i motori e le batterie è un qualcosa che tutti vanno a controllare e che spesso poi fa sottovalutare tutto il resto ma ci arriviamo per quanto riguarda i motori ne esistono fondamentalmente due tipologie quelli posizionati nel movimento centrale e quelli posizionati sulla ruota posteriore personalmente prediligo quelli in corrispondenza del movimento centrale perché vanno a distribuire un po meglio il peso della bicicletta in una posizione bassa abbassando il baricentro la bici diventa un pochino più stabile anche più maneggevole attenzione attenzione al motore della bici perché qua veramente si gioca la partita ci sono bici di scarsa qualità che hanno un tipo di alimentazione di motore davvero scarso che rende poi il tipo di esperienza d'uso della bicicletta stessa un disastro ci sono invece motori come in questo caso che fanno alzare notevolmente il prezzo del mezzo però vi danno un'esperienza di utilizzo estremamente naturale una pedalata molto simile a quella delle bici tradizionali con in più quel piccolo intervento che vi può dare una mano nelle situazioni in cui è necessario fidatevi che è tutta un'altra cosa bosch ha quattro categorie di prodotti active line active line plus performance line performance line cx salendo dalla active line alla performance line cx aumenta via via la potenza le possibilità di regolazione e spesso anche la parte smart che è affidata al collegamento bluetooth con le varie applicazioni di bosch ci sono anche altri produttori oltre a bosch per quanto riguarda i motori tra i più famosi ci sono yamaka e shimano certo è che se rimanete all'interno di questi marchi potete stare veramente sicuri al di fuori c'è il rischio comunque di avere poi un mezzo che non è efficace in questo senso la cosa migliore sarebbe provarle queste bici se ne avete la possibilità attraverso magari un negozio che vende che le vende perché in questo modo riuscirete veramente a capire quali sono le sensazioni diverse che vi dà un motore rispetto ad un altro e soprattutto le sensazioni che vi dà un motore di qualità rispetto ad un motore di scarsa qualità vedrete che c'è davvero un abisso l'altra questione estremamente importante riguarda la batteria la capacità della batteria qui dipende un po da quelle che sono le vostre esigenze e dipende anche dal motore per esempio sul sito di bosch trovate le indicazioni per ogni motore in base alla capacità della batteria le autonomie nelle varie modalità di guida la modalità eco la modalità sport e la modalità turbo diciamo tutte le i vari livelli di assistenza alla pedalata e scoprirete che per una batteria da 625 wattora come queste si superano tranquillamente i 100 chilometri quindi non è così necessario arrivare su capacità del genere anche perché tenete conto che più la capacità aumenta più il peso diventa importante alcune altre cose importanti da sapere rispetto alla batteria è importante che la batteria si possa togliere in questo caso vedete un piccolo carter che scopre l'alloggiamento della batteria qua sul telaio la potete togliere per ricaricarla eventualmente in caso altrimenti potete ricaricarla direttamente sulla spina che c'è qua sul telaio è importante poterla togliere anche per diminuire il peso nel momento in cui volete trasportare la bicicletta un altro aspetto importante della batteria è che dovete tenere conto che diventa il componente più pesante in assoluto di tutto il mezzo quindi il suo posizionamento va ad influire poi su quella che la dinamica di guida le batterie integrate qui nel piantone centrale del telaio sono secondo me una buona soluzione perché rendono di fatto la parte più pesante della bici molto compatta molto vicina alla zona di pedalata mentre le batterie posizionate per esempio sulla parte posteriore vi sbilanciano un pochino sulla parte sulla parte dietro non è fondamentale perché poi comunque con la pedalata assistita queste forze si compensano però una bici che ha la batteria quasi pedala sicuramente meglio arriviamo ora a parlare di un argomento che per me è importantissimo io sono un appassionato ciclista e di conseguenza veramente non sopporto quelle guida all'acquisto dove vi parlano dell'acquisto delle bici elettriche delle bici in generale senza prendere in considerazione la ciclistica perché queste bici a pedalata assistita hanno sì una pedalata assistita un motore una batteria però sono prima di tutto delle biciclette e quindi la parte ciclistica è importantissima il primo aspetto è il telaio non sono tutte uguali le biciclette ci sono delle misure delle distanze che sono fondamentali che vanno a cambiare un po poi anche l'efficacia della pedalata rendendo la bici un pochino più comoda magari ma meno sportiveggiante oppure la bici un pochino più agile ma un pochetto più scomoda perché vi fa stare con una posizione leggermente più reclinata in questo senso la mia raccomandazione è quella di rivolgersi a quei brand che costruiscono biciclette storicamente cannondale è uno di questi no che a catalogo davvero decine e decine di modelli quindi sa perfettamente come si costruisce una bici non a caso questa adventure neo 1 è una bici che pesa 25 kg ma vi assicuro che se voi la utilizzate anche senza la pedalata assistita risulta comunque una bici pedalabile scorrevole che non vi dà nessun tipo di fastidio e che si riesce a usare con estrema naturalezza questo è molto molto importante e non è assolutamente così per tutte le bici oltre al telaio l'altro aspetto fondamentale riguarda la trasmissione ce ne sono fondamentalmente di due tipi un tipo tradizionale classico quello che si usa sempre anche sulle bici muscolari con una catena in metallo un cambio col deragliatore la corona anteriore pacco pignoni oppure un sistema a cinghia qui veramente si aprirebbe un mondo ma se volete possiamo approfondire poi il discorso in un altro video in questo caso abbiamo una bici a catena quindi vi parlerò di questo ci sono decine decine di modelli di cambi però la cosa importante secondo me è quella di scegliere un componente che sia di un marchio noto di un marchio affidabile io vi consiglio spassionatamente quelli shimano perché è un marchio che produce decine decine di modelli da tantissimi anni e sono dei prodotti estremamente robusti facili nella manutenzione da qualunque ciclista la possiate portare lui saprà come metterci le mani e soprattutto durano nel tempo con grande affidabilità andiamo poi a parlare delle ruote che sono un componente molto importante purtroppo tendenzialmente sulle bici si va un po a fare economia su questo aspetto cioè le versioni base che riuscite a trovare quando acquistate la bici non sono di grandissima qualità in questo senso se prendete se puntata un modello leggermente superiore come in questo caso avete nel pacchetto anche dei cerchi belli robusti di qualità in questo caso abbiamo dei cerchi che sono nati per la mountain bike e quindi resistono sono fatti per resistere anche alle sollecitazioni forti la dimensione delle ruote ideale secondo me è questa 27 e mezzo potrebbe andar bene anche con le ruote un pochino più grandi da 29 però in questo caso secondo me abbiamo un buon compromesso tra maneggevolezza e scorrevolezza non intestardite invece sui copertoni sono uno di quei componenti che comunque si consuma dopo un po va cambiato e anche doveste avere una bicicletta che ha un set di copertoni di scarsa qualità al momento in cui l'ha andata ad acquistare con una minima spesa una cinquantina una sessantina di euro riuscite a portarvi a casa già due copertoni soddisfacenti arriviamo poi a parlare del sistema sospensivo acqua casca al palco ci sono un sacco di bici di qualità super discutibile con l'ammortizzatore o meglio la forcella ammortizzata nella parte anteriore e qui sono un po contro questa filosofia perché secondo me in città non è strettamente necessario con dei buoni copertoni comunque si riesce tranquillamente ad avere un discreto comfort di utilizzo ecco se dovete acquistare una bici ammortizzata allora prendetela in considerazione solo se andate su dei budget un pochino elevati almeno 3000 euro altrimenti rischiate davvero di avere un componente la forcella pesante di scarsa qualità che creerà che vi creerà dei grattacapi necessiterà di molta manutenzione e spesso non riuscirà mai a funzionare nel migliore dei modi per farvi capire anche questa bici che sta sui 4000 euro ha una forcella estremamente basilare a molla niente di paragonabile anche ad una mountain bike di livello abbastanza basso per quanto riguarda la sospensione posteriore anche qua discorso come prima non è strettamente necessario in questo caso la bici di fascia alta e ha un sistema molto interessante posizionato qua sul reggisella che va a smorzare più che le sollecitazioni grande le piccole vibrazioni e abbinato ad un sellino molto ampio e comodo e morbido rende questa bici davvero davvero comoda su qualunque fondo parliamo anche dei freni qui abbiamo dei freni a disco io ve li consiglio perché sono freni ormai affidabili che funzionano sempre molto bene ce ne sono di due versioni quelli meccanici cioè hanno un cavo che azionate dalla leva sul manubrio e tira poi tutto il sistema e fa stringere le pastiglie sul disco altrimenti ci sono i freni a disco idraulici che quindi contengono un fluido all'interno del dei tubi che collegano la leva al freno e questi sono un pochetto più potenti un pochino più affidabili si ritrovano solitamente sulle bici di fascia un pochetto più alte in questo caso per esempio abbiamo degli ottimi freni shimano che un po per lo stesso discorso del cambio del sistema di trasmissione sono una garanzia di affidabilità e di tranquillità anche per quanto riguarda la sicurezza finora vi ho parlato delle parti importanti della bicicletta quelle su cui prestare molta attenzione adesso invece voglio aggiungere un capitolo che riguarda quegli accessori quelli in più che sono quasi superflui soprattutto se volete mantenere basso il prezzo e che potete eventualmente aggiungere in un secondo tempo il portapacchi è uno di questi in questo caso vedete un portapacchi veramente molto solido che vi permette fin da subito di poter installare il seggiolino della bici di un bimbo oppure le borse per trasportare la spesa o tutto quello che volete però nulla vi vieta di andare ad acquistare un portapacchi anche in seconda battuta con 35 40 euro riuscite ad avere un portapacchi di ottima qualità dovete solo fare attenzione che siano disponibili gli attacchi sul telaio quindi questi due viti che sono posizionate qui e anche i fori posizionati qua alla base del carro posteriore un altro accessorio che molto spesso è incluso sulle bici ma potreste tranquillamente aggiungere in un secondo tempo sono i parafanghi chiaramente possono esservi utili nel momento in cui andate usate la bici anche con la pioggia però non sono certi indispensabili in questo caso poi sono dei parafanghi di alluminio che aggiungono anche un pochetto di peso stesso discorso anche per le luci qui abbiamo delle luci che sono collegate direttamente al sistema intelligente al computer di bordo e quindi potete accendere direttamente da qua però tenete conto che magari solo questo accessorio fa evitare di qualche centinaio di euro il costo della bicicletta tenete presente che andando al decathlon con 10 euro vi prendete due luci una posteriore un'anteriore che fanno esattamente la stessa funzione poi più salite di prezzo più i brand tendono ad arricchire la vostra bici se voi andate sulla pagina ufficiale di Cannondale per questa adventure trovate proprio lo slogan la super accessoriata perché per esempio c'è anche un radar di Garmin che vi dice la distanza che state avendo in quel dato momento rispetto alle macchine che arrivano alle vostre spalle e quindi vi può essere utile catari frangenti pedali il cavalletto sono tutti degli orpelli aggiuntivi a cui potete tranquillamente rinunciare arriviamo al quinto punto quello finale che riguarda chiaramente il prezzo quanto bisogna spendere per una bici elettrica da città e questo è importante in realtà perché vi dico che se trovate una super offerta con una bici elettrica pedalata assistita a 500 euro potete stare tranquilli che molto probabilmente sarà un pacco una bici elettrica da città difficilmente di buona qualità difficilmente costa meno di 1500 2000 euro e io vi consiglio di rimanere almeno su quelle cifre perché altrimenti rischiereste veramente di avere un mezzo comunque pagato caro ma che non vi permette poi di divertirvi di usare la bici in piena sicurezza ecco tenete presente che un mezzo di questo genere come in questo caso superiore ai 4000 euro secondo me può tranquillamente sostituire uno scooter da città è chiaro che col brutto tempo con l'inverno poi bisogna acquistare delle delle protezioni per la temperatura eccetera eccetera però la comodità il fatto che vi permetta di arrivare sul luogo di lavoro o a scuola senza essere sudati completamente è veramente un bel un bel valore aggiunto a proposito di budget vi consiglio anche di risparmiare qualcosina per il sistema di antifurto bici del genere hanno un valore importante quindi dovete prendere comunque in considerazione il luogo dove andrete a conservare sia a casa che sul luogo di lavoro tenete presente che sono pesanti quindi se ci sono delle scale da fare diventa un pochetto problematico se dovete lasciarla in giro un lucchetto ben fatto vi costerà 100 150 euro anche però vi dà la sicurezza o comunque vi dà quella sicurezza in più che non vadano a rubarvi la bici tra tutti i lucchetti vi consiglio quelli di kryptonite che costano un po però effettivamente valgono la pena bene spero di avervi detto tutto comunque se avete altre domande sono sempre a disposizione qua sotto nei commenti noi ci vediamo ad un prossimo video e io vado ciao